Oggi sono ritornata da Saffo, vi ricordate i cuccioli con i nomi dei poeti latini? E' grecia. Saffo amore! Allora Saffo è rimasta in canile a quasi un anno, è rimasta di taglia media contenuta, peserà un 15 massimo 17 chili, è bellissima, porta le orecchie dritte di solito lei. Eccola, vediamo se riesco a farvela vedere, è bella vispa, eccola, bellissima amore, brava, ecco qua. Non è giusto che resti in canile, sono cani giovani, affettuosissimi, lui è Olli, il suo compagno di box, un po' vecchiottino lui ed è tanto dolce, guardate affettuosa, chiaramente non conosce il mondo esterno perché ha passato tutta la sua infanzia da quando aveva meno di due mesi qui in canile, vedremo se sarete bravi a farla abituare ai vari contesti, qualche volta si rinuncia magari al contesto troppo urbanizzato per questi cani qui, ma se abitate in un quartiere tranquillo, in periferia, in campagna sarebbe fantastico, lei farà la gioia della vostra famiglia. Ciao Saffo, sei bellissima, ti faccio qualche foto, è spettacolare questa cagnolina, come è possibile che nessuno l'abbia chiesta in adozione. Buona fortuna Saffo. Buona fortuna Saffo.